Jake e i pirati dell'isola che non c'è Sull'isola che non c'è è una bellissima giornata. I piccoli pirati stanno giocando sulla spiaggia quando notano una strana scatola. Apriamola! esclama Jake. Dentro la scatola c'è un trampolo a molla. Chubby è preoccupato perché non sa come usarlo, ma Izzy lo rassicura. Ti insegneremo noi! Poco lontano il vento ha fatto volare il cappello di Capitano Uncino su una palma. Uncino si arrampica sulle spalle di Spugna per raggiungerlo, ma è troppo in alto. Proprio in quel momento Uncino nota Jake sul trampolo a molla. Con qualcosa saltellante recupererò il mio cappello, decide il Capitano. Così Spugna e Uncino si avvicinano alla ciurma e notano Chubby che sta provando a saltare. Cribbiolina, non mi sento affatto sicura, dice il bimbo. Il Capitano approfitta della situazione e... Poing! Con l'uncino ventosa ruba il trampolo a molla di Chubby. Fermiamo quel malandrino, grida Izzy. Uncino allora scappa via e con un salto raggiunge la cima della palma. Guarda Spugna, ho preso il cappello, esulta. Tuttavia il Capitano non riesce a fermarsi e colpisce un casco di banane, perdendo ancora il cappello. Spugna aiutami, grida rimbalzando. Anche Fiocco e Randa accorrono alle grida del Capitano. È davvero buffo, ride Fiocco. Dedichiamogli una canzone, aggiunge Randa. Intanto Jake, Izzy, Chubby e Scully stanno cercando Uncino. È passato di qui, esclama Jake, indicando le tracce del trampolo a molla sulla sabbia. Mi sembra anche di sentirlo gridare, aggiunge Izzy, tendendo l'orecchio. Infatti Uncino ha spiccato un salto altissimo ed è rimasto agganciato al ramo di una palma. Spugna, tirami giù, grida lasciando cadere il trampolo. Il fedele Spugna tenta di aiutare il suo capitano, ma non riesce a saltare abbastanza in alto. Sei un incapace, lo rimprovera Uncino. In quel momento la ciurma raggiunge i pirati. Ecco il vostro giocattolo, dice Spugna. Ora potete aiutare il capitano a scendere dalla palma? Certo, esclama Jake, ma dobbiamo farlo prima che cada. Infatti Uncino ora è aggrappato a un casco di banane e sta per precipitare. È un'emergenza, grida Izzy. Poi cosparge tutti di polvere magica, facendoli alzare in volo. Non ho bisogno del vostro aiuto, insiste il capitano. Ma Izzy non gli da retta e cosparge anche lui di polvere magica. Urrà! Uncino è salvo e i nostri amici possono tornare a giocare. Ora cerchiamo il cappello, capitano, dice Spugna, fluttuando nell'aria. Finalmente Ciabbi può esercitarsi con il trampolamolla. Bruscolini, sei diventato bravissimo, si complimenta Scalli. Nello stesso momento, sulla Jolly Roger, il capitano ha ritrovato il suo cappello e sorride, ammirando la sua immagine nell'uncino specchio. Ma ecco che un'improvvisa folata di vento fa cadere il cappello in acqua. Accidenti, grida Uncino, niente paura, lo rassicura Spugna. Tuttavia, un noto ticchettio farà brividire il capitano. Tic-tac, tic-tac. Oh no, il coccodrillo ha preso il cappello, grida Uncino. Sulla spiaggia, invece, i nostri amici festeggiano la fine di questa avventura. Oggi si sono meritati otto dobloni d'oro da aggiungere al loro forziere. Fine.